Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Attimi di tensione al concerto di Anna Lisa in Sicilia. La cantante, a causa di un malore improvviso, si è vista costretta ad interrompere l'esibizione. Grazie ai fan che si sono sbracciati, tutto è andato per il meglio. Lo scorso 26 luglio Anna Lisa si è esibita in concerto presso Villa Bellini a Catania, una tappa molto attesa dai fan siciliani che hanno accolto la scarrone con grande affetto. Durante l'esibizione però una persona ha accusato un malore e l'artista si è vista costretta a stoppare tutto. Anna Lisa si stava esibendo a Villa Bellini quando ha visto alcuni fan sbracciarsi per attirare la sua attenzione. La scarrone ha subito interrotto il concerto e quando ha capito che una persona aveva avuto un malore ha chiesto l'intervento dei medici. Per favore avvisatemi dopo e fatemi sapere cosa succede, ha esclamato la cantante dopo che il seguace è stato portato via dai dottori. Dopo aver interrotto il concerto per dare modo ai medici di soccorrere il fan, Anna Lisa ha ripreso a cantare. Ad un certo punto però ha aggiornato i presenti sulle condizioni del giovane e ne ha approfittato per ringraziare quanti le hanno fatto notare il malore. Ragazzi è tutto a posto, mi hanno detto che è ok. Qualsiasi cosa ditemelo grazie a voi che vi siete sbracciati.